Siamo pronti? Possiamo? Uno, due, tre, via! All'interno dell'unità operativa di chirurgia pediatrica dell'Ausla di Pescara è stata inaugurata la Sala Manes. Si tratta di una sala operatoria, donata dalla Fondazione Ada Manes, destinata agli interventi di chirurgia ambulatoriale, uno spazio che consente procedure più snelle per i piccoli interventi, riducendo così i tempi di attesa per bambini e le loro famiglie. Noi abbiamo un dramma che è la carenza di sedute operatorie. Ovviamente questa sala operatoria, che comunque ha tutti gli effetti, non grande ma ben attrezzata, ci dovrebbe permettere di decongestionare in parte, speriamo in buona parte, inizialmente saremo molto prudenti nelle indicazioni, per interventi che non necessitino di anestesia generale. L'obiettivo della Fondazione Ada Manes è proprio quello di facilitare le terapie chirurgiche rivolte ai pazienti più piccoli di ogni luogo e provenienza sociale, sostenendo sia il miglioramento delle strutture dedicate nelle città di Pescara e in Italia, sia nei paesi in via di sviluppo. Le prime risorse ovviamente sono state dedicate alla chirurgia pediatrica di Pescara, ma in questo anno abbiamo già anche partecipato a due missioni di chirurgia pediatrica in Etiopia, nella regione del Tigrai, dove in due missioni ognuna di 15 giorni noi abbiamo operato più di 100 bambini, ne abbiamo visitati più di 300. La prossima missione parte a dicembre e speriamo di continuare con progetti efficaci. La società civile deve partecipare e contribuire con le istituzioni a rendere le strutture destinate al pubblico quanto più efficaci. E lì dove il pubblico non arriva, e non dimentichiamo che siamo in tempi di taglia, la sanità, lì dove il pubblico non arriva, ecco le associazioni, le fondazioni, eccetera, è bene che facciano il loro. La donazione della nuova sala operatoria, reparto di chirurgia pediatrica di Pescara, del valore di 30.000 euro, è stata resa possibile grazie anche al contributo di donors organizzati dal Miglianico Golf Club.